salve carissimi ctutubi sono francesco bentornati nella soffita di camera mia o benvenuti se la prima volta che venite a visitarla con sommo ritardo e vi parlo degli albi del free comic book dei albi usciti il 30 novembre sono 14 albetti li ho letti tutti vi faccio quella che è un pochettino la mia classifica dicendo che un pochettino le mie impressioni quest'anno hanno partecipato tante case editrice l'anno scorso se non ricordo male era papanini sergio bonelli editore rv lion grande assente di questa edizione qui e insomma mi dà idea che il rumor che corrono sul fatto che rv possa chiudere a favore di panini con il ramo di sì mi sembra abbastanza mi sembra un ulteriore indizio un ulteriore prova però è chiaro che finché non c'è l'ufficialità ok abbiamo inoltre salda presbao e star comics che l'anno scorso va partecipato da solo in autonomia che si è unita quindi al gruppone come vi dicevo vi faccio un attimo quella che la mia classifica personale quindi è a gusto strettamente personale sono albetti che contengono primi capitoli o estratti di vari volumi su cui evidentemente le case editrici ci vogliono puntare quindi farli conoscere al grande pubblico per far capire se possono piacere o meno per poi eventualmente acquistare i volumi volumi che molti in alcuni casi soprattutto bao sono già usciti se non salda presso sono già usciti credo quasi sicuramente qualcuno è proprio arridosissimo quindi boh scelta un pochettino così ci poteva stare farli uscire il 30 novembre per testate in uscita a gennaio quindi mi dai un pochettino il gusto l'idea di che storie saranno e poi le vado a ordinare perché mi hanno incuriosito partiamo della storia che mi è piaciuta di meno in assoluto quella legata a the gun se visivamente la storia è molto piacevole molto cartoonosa la storia di per sé non mi è sembrata nulla di che non conosco il personaggio non conosco così bene the gun ma questo pseudo zombie che vuole menare le mani non mi ha convinto qui ritorna a casa sua dopo una lunga assenza e vede che un po di cose sono cambiate essenzialmente poco interessante e poco interesse però magari a chi piace il personaggio può comunque piacere un attimino la cosa un altro albetto che non mi ha convinto è stato quello di bloodshot universo valiant intanto dico subito che il volume panini hanno un certo tipo di carta un certo tipo di grammatura un certo tipo di morbidezza di questo qui un albo molto più ruvido non è carta plastificata si sente e sono molto diversi capisco le scelte artistiche in alcuni casi però ok accetto il fatto che star comics abbia voluto magari cercare qualcosa di ancora più economico ma comunque molto bellino il disegnatore interno di questa storia di bloodshot a me piace molto è brett boot la storia è di tim seely non conosco bloodshot per quel poco che ho visto è un classico anti eroe che va a menare le mani spara era un ex soldato l'inizio non è male però la storia di per sé mi ha annoiato parecchio mentre la leggevo passiamo a un l'unico flip book della salda press in questo caso che contiene murder falcon e ghost fleet entrambi i volumi che se non sbaglio sono già usciti per salda press quindi accumulati dal fatto che sono tutti e due disegnati da daniel were al joshon quindi stesso disegnatore murder falcon è una storia più legata al metal con un protagonista chitarrista che deve un attimo rifarsi una vita dopo che la sua vita è stata sconvolta per vari ed eventuali mentre ghost fleet vede vede i nostri dover difendere un camion mentre fanno un viaggio mentre trasportano del materiale ghost fleet ancora ancora c'è un po di misteri che cosa contiene il convoglio che stanno trasportando perché tutti lo vogliono può sembrare interessante murder falcon invece mi è sembrata una cosa un po' buttata lì per far vedere i tizi che menano le mani a colpi di canzoni musicali presumo ci siano tante citazioni che non ho colto però ho capito essere citazioni non acquisterai nessuno delle due ancora ancora ripeto ghost fleet ma murder falcon non mi ha convinto per niente passiamo poi ad utter darkness dentro la tenebra di john lyman disegnatore che conosco per la sua run su detective comics storia che boh viaggi nello spazio pseudo esorcismi ricerca di cose non sono un patito di spazio quindi immaginavo potesse non intrigarmi particolarmente e per quanto belle possano essere l'ambientazione per quanto la storia sia sul comico non ha saputo farmi breccia quindi un altro albo che mi interessa molto poco proseguo poi con il muro di mario alberti per disegni l'opera è francese penso che sia una storia uscita per il mercato franco belga non è una brutta storia e visivamente devo dire è interessante siamo in un futuro post apocalittico c'è la sorella del protagonista o la figlia che sta male ha bisogno di medicina e devono raggiungere questo luogo questa fortezza fortezza in un qualche modo non è una fortezza però insomma quest'area sicura chiamata eden con il 3 al posto della seconda e dove magari la ragazza si può curare la storia tutta qui apparentemente per quello che vediamo all'interno di questo volume molte ambientazioni molto belle tanti discorsi forse un pochettino troppi però un post apocalittico è uno di uno dei tanti generi che non fa troppo per me passiamo poi a everly dell'ajon manga uno dei primi manga se non ricordo male che vi faccio vedere della star comics visivamente parlando non mi ha colpito per niente la storia ci parla un pochettino di persone che stanno in questa scuola effettivamente incubi quant'altro persone che si assomigliano non ho capito bene dove voglia non ho capito bene dove voglio andare a parare non mi ha incuriosito abbastanza per permettermi ci di dare un occhiata passiamo poi all'albetto di avengers contenente un capitoletto di avengers che mi ha colpito invece mi è piaciuto proprio carino visivamente si fa un attimino il punto su alcune cose c'è una situazione strana che mi ha destato curiosità cosa che infatti mi fa dire che probabilmente quando usciranno i cartonati della serie avengers di jason haron potrei cominciare a recuperarli e poi c'è invece una breve che dovrebbe fungere da prologo alla serie savage avengers che mi ha proprio annoiato mi ha proprio annoiato come come prologo non mi ha convinto passo poi a the prism di matteo delongis un volume un volumetto bao e forse è il volumetto più bello per per materiali è proprio bello sia la copertina che è un pochettino più rigida di quelli panini però è lube però è lucida e plastificata e la colorazione interna è davvero davvero buona dei buoni contrasti una buona colorazione però la cosa mi si ferma un po qui come pre lancio come inizio non ho capito neanche bene di che cosa voglio andare a parlare che cosa voglia raccontarci come storia e non sono uno che vede dei bellissimi disegni e si getta all'acquisto di una storia quindi boh aspetto consigli nel caso da chi la leggerà per capire un attimo di che storia si tratti perché leggendo sto inizio non l'ho capito proseguo poi con questo spider-man con venom in realtà non è tanto spider-man è l'incipit di absolute carnage la storia mi è piaciuta mi ha convinto mia belle atmosfere belle tese sono sinceramente non dico curioso di leggerla perché non ho letto mai niente di spider-man tant'è che con i cartonati di spencer volevo cominciare non ho mai letto niente di venom non so chi sia carnage non so che ruolo abbia di preciso e boh mi ha destato comunque interesse cioè mi è piaciuta sembrata una storia dal potenziale poi magari no però mi sembra che ci sia e poi c'è una storia con spider-man e mice morales molto semplice divertente di intrattenimento non penso che abbia dei risvolti di una qualche sorta però perlomeno è stata divertente proseguirei poi con dal mondo di topolino due estratti di due storie ben distinte da un lato abbiamo l'ix music di cui ovvio già parlato vi parlerò lunedì non so quando pubblicherò questo video in particolare che ci mostra un pochettino l'inizio alcune cose della nuova storia di bruno enna per i disegni di mazzarello la storia mi è piaciuta l'ho già letta la prima puntata da questo incipit in realtà non è che mi abbia convinto particolarmente di per sé sono le prime dieci pagine non lasciano troppo troppi spunti troppi dettagli la storia invece di per sé dopo che l'ho letta posso dire che è stata carina anche perché c'ha dei risvolti potenzialmente molto interessanti ma lo vedremo magari meglio nei prossimi numeri mentre invece la storia successiva è di marco gervasio per i disegni di giorgio cavazzano una storia che vuole analizzare per l'ennesima volta il discorso del paperino e paperinic sì o no con i nostri co protagonisti in realtà qui qua che sospettano che paperino sia paperinic e vedremo come se la caveranno storie di storie divertenti ma almeno per me interessanti un pochettino per quello che ho letto lì un pochettino nella media un altro volume che mi ha incuriosito in realtà è somali e lo spirito della foresta mi ha incuriosito ma non mi ha dato troppe risposte di per sé visivamente mi è sembrato interessante ma meno interessante di girl from the other side da cui prende particolarmente spunto visto che abbiamo sta bambina che segue sto sto golem in giro se girl from the other side ha comunque un po il sapore di slice of life qui sembra voler esserci una trama un pochettino più compatta però all'interno di queste pagine non ho ben capito dove si voglia andare a parare terra d'occhio qualche recensione in merito perché comunque mi ha incuriosito mi è anche piaciuto astra lost in space storia semplice in realtà manga molto semplice i nostri a quanto pare vanno in viaggio di vacanza con la scuola per un insomma viaggio di semina in vacanza in un altro pianeta dove dovranno fare cose e scopriranno che c'è qualcosa che non va l'incipit è tutto qui in realtà però mi ha destato interesse non credo che lo acquisterò perché non è per niente il mio genere e però dateci un'occhiata se vi può interessare il genere perché per quello che ho visto in queste pagine mi è sembrato particolarmente interessante poi ripeto non è il mio genere e credo che mi annoierei a leggere una serie lunga ma penso che visto l'incipit non sarà una storia di più di dieci volumi mi sembrerebbe tanto se si arrivasse a tanto a quella quella collezione passiamo invece a questo volumetto ariande in the blue sky di nori hiro yagi autore di claymore che conoscevo per l'appunto per claymore quindi visivamente parlando mi aspettavo belle cose e belle cose ho trovato la storia inizia con un protagonista un po scapestrato che incontra quella che nei fatti è una sorta di principessa che però sembra gravitare verso l'alto non si sa bene come non si sa bene perché non lo so questo ma è stato davvero curiosità è un po più nel mio genere è un pochettino più fantastico e il disegnatore mi piace non ho claymore fisicamente per quanto ne avessi letti diversi capitoli e visivamente mi era piaciuto un sacco tant'è che mi ero detto prima un po di recuperarlo quindi ti faccio un pensierino questo ariadne soprattutto dopo aver letto qualche altra recensione e veniamo invece ad un numero che mi ha convinto ma del quale non sono sicuro se voglio comprarlo sto provando di dare il zed volume della sergio sbonelli editore che ci presenta inizialmente un estratto da credo un altro volume per i disegni di faraci e disegni di mari mi ha convinto e poi c'è questa seconda parte con questi vignettoni perché di fatto si tratta di vignettone monopagine con questo disegno retro con questa colorazione molto particolare ad opera di sergio al gozzino e non so bene dove si voglia andare a parlare non l'ho ben capito di cosa voglia parlare da realizzate un personaggio particolarmente strano perché di base è un fumetto all'interno del mondo di dylan dog questo è quello che ho scoperto cercherò di recuperare prima eventualmente di acquistare proprio dare il zed la storia caccia alle streghe di cui che uscirà in un volumetto da libreria insieme ad altre storie legate alle streghe quindi penso che prenderò quello un pochettino per praticità un pochettino per avere più storie insieme dare il zed sembra voler essere una sorta di meta fumetto dove dare il zed è il dylan dog dell'universo di dylan dog proprio letteralmente è il fumetto di dylan dog all'interno del mondo di dylan dog con tanto di situazioni che però sono un pochettino più estreme di dylan e quindi sembra voler essere un dylan più cattivo un dylan pochettino più estremo e la cosa mi intriga mi intriga davvero tanto e i disegni così retro mi danno proprio l'idea di essere un fumetto nel fumetto e boh ai testi abbiamo tito faraci sceneggiatore che conosco e che mi piace perché allora penso di non acquistarlo perché effettivamente viene proposto a 32 pagine a 3 euro e 50 in volumetti da fumetteria forse si aspettano che effettivamente in edicola non possa andare quindi preferiscono fare sta sto accrocchio qua però 32 pagine 3 euro e 50 cominciano a essere un tantinello e soprattutto non conoscendo il personaggio sì quello che ho letto mi ha incuriosito però nello stesso tempo non mi va di spendere così tanto per così poco per poi valutare se mi piace o non mi piace quindi boh sono molto indeciso probabilmente la recupererò perlomeno il primo numero per darmi un'idea e insomma freccome book day abbastanza convincente non non mi sono sembrate tutte storie allora anche le storie che non mi sono piaciute ho notato qualcosa di interessante quindi per gli amanti magari di quegli generi specifici può essere possono essere storie interessanti volumi interessanti l'iniziativa prosegue bene prosegue con diventando sempre più grande quindi c'è molta più varietà molte più case editrici più possibilità di assaporare qualcosina per poi decidere se effettivamente può il volume fare per sé e la cosa è bella potenzialmente anzi inviterai le case editrici piuttosto a fare delle anteprime sui sui propri siti ma o so che lo fa ma ho già visto che lo fa quindi sono molto contento perché magari si da dieci pagine non capisci se il volume fa per te o meno però te ne fai perlomeno un'idea te ne fai un'idea in una maniera assolutamente legale altre case editrici non l'ho fatto io ne eviterei a farlo ma banalmente perché leggo mi piace ok magari lo sono più invogliato ad acquistarlo non vedendolo magari non sono neanche invogliato all'acquisto e questa iniziativa qua serve proprio a questo mostrare potenziali lettori storie a cui magari non sarebbe interessato e poi o far scoprire che escono cose che magari potrebbero esseri interessanti per dire il manga di yaki non sapevo che stesse per uscire non sapevo neanche che l'avesse fatto in realtà però quello un po sono io che non sono informato del mondo manga e boh mi è sembrato interessante quindi ci butterò un'occhiata ci darò un'occhiata e questo è un po quello che avevo da dire per oggi vi aspetto nello spazio commenti per vostre opinioni e pareri siete d'accordo non siete d'accordo con quello che ho detto quali albi vi hanno convinto di più quali albi vi hanno convinto insomma discutiamone parliamone qui sotto nello spazio commenti ho cercato di essere conciso perché comunque il materiale era tanto erano 14 volumetti 15 serie quindi da roba ce n'era da dire e qui da francesco il fancopop alle mie spalle dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao